Sono sconcertato riguardo la richiesta effettuata dal vicesindaco di Agropoli Elvira Serra in merito alla rettifica della delibera dello scorso 25 ottobre 2018 che riguardava il mantenimento della rete cardiologica dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania a dichiararlo il primo cittadino di Agropoli a Damocopola. In lei avevo riposto piena fiducia ma adesso la mia visione nei suoi confronti è cambiata e risponderò in maniera decisa. Innanzitutto devo confessare uno sgomento da parte mia per le dichiarazioni del vicesindaco Elvira Serra che aveva tutta la mia fiducia che ora naturalmente viene meno e spiego perché. Prima di tutto andiamo nel chiarire ancora una volta la questione della delibera. Si trattava di un servizio legato a problemi di natura cardiologica che veniva tolto all'ospedale di Vallo della Lucania e portato a deboli. Non c'entra l'ospedale di Agropoli, non c'entra l'ospedale di Agropoli. Era un servizio tolto a Vallo e portato a deboli. Io credo che ormai è finito il tempo dei campanili, è finito il tempo in cui Agropoli è contro Vallo. Il Cilento, se vuole una risposta alla soluzione dei propri problemi, deve stare insieme. E quindi, anche se non si tratta direttamente dell'ospedale di Agropoli, ma si tratta dell'ospedale di Vallo, voglio ricordare che l'ospedale di Vallo e l'ospedale di Agropoli, sull'indicazione regionale, è diventato un unico ospedale. Quindi, se danno qualcosa a Vallo, lo tolgono anche ad Agropoli. Bene, questo servizio andava difeso perché lo togliamo del Cilento e lo portiamo verso la Pianata del Sele. Visto il ricorso proposto dal Comune di Vallo e da tanti altri comuni del Cilento, noi abbiamo fatto altro che aggregarci a questo ricorso per dare sostegno, per dare il segnale di un'unità del territorio. Non si toglie niente all'ospedale di Agropoli, non si danneggia la popolazione di Agropoli, anzi, penso che questo servizio se sta a Vallo, dato che fino a proprio contrario le ambulanze che partono da Agropoli, noi speriamo si fermino presto anche ad Agropoli, ma per intanto vanno a Vallo. Quindi, se mi succede una cosa a me, mi portano a Vallo dove stanno togliendo un servizio. Credo che anche a tutelo dei cittadini di Agropoli si fa questo. Ma poi, la cosa inaccettabile è che noi siamo seduti tutta quanta la giunta del Sistema Comunale e discutiamo di questa delibera, discutendoli in maniera anche forte, decisa, quasi ad arrivare, voglio dire, a una discussione alle urla, perché è anche giusto così. E la dottoressa Serra aveva un'idea di partenza contraria, però rispetto alle mie rimostranze, cercando di spiegare che è importante, precedente da tutto, mantenere unito il territorio, alla fine della discussione, alla mia richiesta, se erano tutti d'accordo, nessuno ha più parlato, quindi abbiamo dato per scontato che, come succede sempre nelle delibere, la delibera viene approvata. Perché ho detto che qualcuno ha qualcosa in contrario, nessuno ha risposto. Bene, andiamo alla prossima delibera. Oggi mi viene a dire che lei aveva votato negativamente, beh, questo mi fa veramente cadere le braccia. Mi fa veramente cadere le braccia, perché è una cosa non vera, una cosa non so cosa possa essere successo, ma è una cosa non vera alla quale noi risponderemo in maniera decisa. Io non so se è stato da parte solo uno scivolone, non so cosa ha pensato, cosa ha fatto, però non può essere. Poi a distanza di 4 mesi ci ricordiamo, 4-5 mesi ci ricordiamo di questa delibera. Non lo so che cosa passa in questo momento nella mente del vice sindaco, però sono dispiaciuto di questo atteggiamento, insomma, quasi a dire come se noi avessimo in qualche modo fatto diversamente di quello che è avvenuto, quasi come se noi avessimo spostato la tua decisione da negativa a positiva. Mai potremmo fare una cosa del genere. Mai potremmo fare e mai la faremo una cosa del genere. Quindi essere soltanto accostato a un'ipotesi di questo tipo, cioè di aver volutamente trasformato l'idea da positiva e negativa, o un voto addirittura da negativo, da sfavorevole a farlo diventare favorevole e essere avvicinati soltanto a questa idea, mi fa ribrezzo, perché non è nel nostro comportamento, non è nel nostro modo di fare e ci sono ben 5 persone disposte se la cosa dovesse andare avanti a testimoniare che non è andata così.